L'iniziativa dell'uovo sospeso si ispira alla tradizione del caffè sospeso napoletano, quindi essenzialmente sarà possibile regalare un uovo e anche un sorriso alle associazioni del territorio che abbiamo coinvolto quest'anno in questa iniziativa e allo stesso tempo sostenere i progetti di ANT, di assistenza medico domiciliare gratuita alle persone malate di tumore. È un'iniziativa molto importante che è giunta alla terza edizione e quest'anno abbiamo deciso di ampliare gli enti del terzo settore beneficiari dell'iniziativa e dell'uovo sospeso che saranno Aias, ANFAS, Cooperativa Sociale Francesca, Nonno Mino, ODV e la Caritas di Ocesana del territorio. In questo momento siamo tutta l'equipe sanitaria, siamo 4 medici, 8 infermieri e una psicologa, lavoriamo nel territorio di Pesaro Urbino e il nostro obiettivo è curare i malati a casa, a proprio domicilio, in modo totalmente gratuito. Garantiamo una riprendibilità H24 e allestiamo casa diciamo un po' come se fosse un ospedale, infatti vengono chiamati ODO, ospedali domiciliari oncologici, nella quale noi portiamo tutto il materiale sanitario e anche i presidi, letti, carrozzine, insomma quello che ci può servire noi lo portiamo a casa del paziente. E' un lavoro bellissimo però molto difficile perché comunque entriamo in famiglia un po', iniziamo a far parte delle famiglie e quando purtroppo poi ci salutiamo è abbastanza difficile, doloroso per tutti, pure per noi sanitari. Questa iniziativa è una raccolta fondi per noi ma è bellissimo sapere che oltre a permetterci di fare il nostro lavoro facciamo del bene anche ad altre organizzazioni attraverso appunto questa iniziativa di un luogo sospeso.